Ma se io ora vi dicessi che sta arrivando il super DVD? Paura, eh? No, no, state tranquilli. Infatti, alcuni ricercatori cinesi hanno scoperto come potenziare i DVD per permettergli di contenere una quantità assurda di materiale. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature, mettendo insieme le forze di diversi istituti, soprattutto nell'Università di Shanghai. Secondo questo studio, il gruppo di ricerca è riuscito a creare un disco con più di 100 strati, che potrebbe memorizzare circa 220.000 lungometraggi. Pensate che allo stato attuale i DVD a strato singolo possono contenere circa 2 ore di contenuto, mentre i dischi a doppio strato ne possono contenere 4. Quest'invenzione però potrebbe sbaragliare completamente le carte in tavola. Un attimo che mi sono scritto quello che hanno detto perché non me lo ricordo. Aumentiamo la capacità di archivazione ottica dei dati a livello di petafi, estendendo l'architettura di registrazione planare a tre dimensioni con centinaia di strati, rompendo nel frattempo la barriera del limite di differazione ottica dei punti registrati. Questo è quello che scrive il Tim nel suo articolo. Questo è il mio quaderno delle medie. Insomma, se le cose stanno così, un disco potrà contenere più film di quanti io ne posso vedere in tutta la mia vita. L'obiettivo finale è rendere questo super disco commercialmente valido. A questo punto iscrivetevi al canale, salvate il video, condividetelo, scatenatevi nei commenti.